oggi andiamo a fare un bel tagliando al mio crf grazie a questo video anche voi da casa ne sarete in grado e soprattutto non spenderete tutti quei soldi portando la moto dal meccanico ma semplicemente acquistando due cosettine come abbiamo qua vi farò vedere nel dettaglio come fare il cambio dell'olio e del filtro alla mia moto o a qualsiasi crf andiamo al video buongiorno buonasera buonanotte a tutti io mi chiamo nicolas per chi non mi conoscesse e oggi andremo a vedere come cambiare olio e come cambiare filtro ad un crf 250 r il mio precisamente è del 2011 e adesso andremo a vedere nel dettaglio anche da varie inquadrature come si fa infatti mi sono preparato questo cappellino con la gopro per potervi farvi vedere da ogni angolazione e proprio specificatamente come farlo su un'onda abbiamo due differenti tipi di olio uno è l'olio motore e l'altro è l'olio della trasmissione se vi state chiedendo qual è la differenza appunto ce ne sono due sostanziali semplicemente il prezzo uno più costoso dell'altro l'altra differenza consiste nel fatto che questa moto ha due punti di drenaggio differenti e due punti dove mettere l'olio differenti quindi da una parte andremo a mettere uno e dall'altra l'altro un mio consiglio è quello di scaldare la moto giusto tre minuti prima di cambiare l'olio vedrete farà la differenza perché l'olio scorrerà giù più velocemente quindi fatelo allora adesso andiamo a parlare dell'olio che io ho comprato utilizzo motul 7100 10 v 40 per l'olio motore un olio 100 per cento sintetico non costa troppo infatti il prezzo non è elevatissimo per dirvi tutto il kit io l'ho pagato 35 euro con compreso anche il filtro e invece per l'olio della trasmissione utilizzo questo transoil expert sempre 10 v 40 come vi dicevo i punti di drenaggio sono due utilizzeremo un cric del 12 per svitare entrambi alle viti e drenare tutto l'olio in questa bacinella e poi andiamo a svitare il paramotore il mio paramotore non serve nemmeno a che lo si sviti infatti c'è un buco apposta dove esce l'olio adesso con la mia gopro vi faccio vedere bene dove andiamo a svitare per far uscire l'olio dopo averla scaldata andiamo a svitare i due punti che vi dicevo il primo punto che io consiglio di svitare è quello dell'olio motore l'olio motore ha una vita appunto sotto il motore un pochino più indietro e questo è uguale in teoria per tutti i crf annate precedenti e in teoria successive quindi iniziamo a svitarlo col cric e poi l'ultima parte la facciamo a mano questo era bello da cambiare infatti io la moto l'ho comprata così com'era e non l'ho mai cambiato questo è il primo cambio che gli faccio in teoria va cambiato ogni circa 10 15 ore di utilizzo della moto perfetto come potete ben vedere la vite è abbastanza pulita non ha segni o residui di ferro quindi la puliamo per bene e la teniamo da parte per dopo successivamente come vi avevo detto andiamo a svitare la vite dell'olio del cambio la vite dell'olio del cambio rimane sempre da questo lato e si trova esattamente sotto la leva del cambio voi l'avete individuata perché con una 12 è proprio l'unica che rimane sotto il cambio e quindi questi punti come vi dicevo sono quasi simili barra identici a tutti i crf in questo caso il paramotore mi andrà a dare un po di fastidio ma vabbè io lo lascio su svito e quel che viene viene questa vite è molto lunga in teoria quindi ci metterò un pochino a svitarla e adesso andiamo a pulire la nostra caravite controllando sempre che non ci siano residui di ferro e ora ve ne dico una di questo genere di moto i nostri primi crf ad iniezione come questo hanno un piccolo problema la moto a freddo non gestisce bene il fatto della benzina non è proprio la moto in sé ma il fatto dell'iniezione quando si va in giro con la moto che è praticamente fredda non si sgasa tanto e appunto rimane tra virgolette fredda come vi dicevo viene stranamente scaricata qualche goccetta nell'olio motore e così facendo succede che si va a mischiare l'olio motore con la benzina e questa cosa non è affatto bene si rischia la rottura del valvole della moto o comunque problemi alla moto che non dovrebbero esistere per evitare appunto questo problema bisogna cambiare spesso ogni 10 15 ore l'olio motore e del cambio in aggiunta già che ci siamo gli cambiamo anche il filtro lo si può notare principalmente dopo tante ore di utilizzo della moto a freddo se non gli si cambia l'olio invece se si fa una manutenzione regolare il problema non persiste anzi vi rimane la moto in un buonissimo stato e nel frattempo che l'olio scola andiamo a cambiare il filtro andiamo a svitare il nostro coperchietto in più sta roba perché se no non viene via il nostro filtro puliamo bene tutta la situazione ed ecco voi il vecchio filtro ormai da cambiare questa molla va riutilizzata quindi tenetela da parte mi raccomando pulitela e mi raccomando date una pulita pure qua dentro a togliere l'olio sausto questo invece è il nuovo filtro esso ha una direzione per essere montato la parte con la gomma va verso il lato del coperchio e dall'altro lato invece gli dovremmo mettere la molla che prima abbiamo tolto cioè questa in questo modo come avete visto nel mio kit ho anche questo gommino e questo gommino che non è altro che una guarnizione andrà montata proprio qua sul nostro tappo se la vecchia guarnizione non è smangiata non ha segni di crepature o comunque vi sembra a posto potete lasciarla su se no cambiatela come sto facendo io semplicissimo un'altra cosa che io consiglio prima di mettere il filtro è quella di oliarlo con lo stesso olio motore che andremo a mettere appunto dentro qua questa cosa non la fanno tutti però chi la fa è un passo avanti infatti adesso andremo a oliarlo giusto un pelo bello oleato profumato e pronto per essere montato come vi dicevo la molla va dalla parte opposta della gomma quindi qua e poi andiamo inserirlo dentro il nostro punto giusto per poi andare a montare il nostro tappino anche adesso ha una direzione quindi mi raccomando trovate la direzione giusta come potete vedere da un lato non combaciano invece dall'altro sì e quando il tappino fa questo gioco è perfetto andiamo a rimontare tutto quello che prima abbiamo tolto e per il filtro il gioco è fatto adesso andiamo a mettere dentro i nostri due oli differenti adesso che abbiamo avvitato il tutto svitiamo questo tappino che ci servirà dopo per controllare il livello dell'olio dentro la moto iniziamo inserendo il nostro motul 7100 generalmente vanno 690 millilitri e mi raccomando quando fate questo lavoro tenete la moto sempre dritta andiamo a controllare adesso se abbiamo fatto un giusto lavoro avvitando tutto dentro togliendolo siccome il livello è qua dobbiamo rifornirlo fino qua manca un pelino ed è a posto ok qua ci siamo adesso è a livello lo rimettiamo dentro e andiamo a fare dall'altro lato l'olio del cambio ok abbiamo quasi finito da questo lato la situazione è un'altra prima di tutto andiamo a svitare questa vite che è la vite del livello dell'olio la svitiamo e andiamo a inserire il nostro olio da qua sopra infatti adesso andiamo a svitare anche questa vite e iniziamo a inserire il nostro transoil expert c'è chi consiglia di inserirlo da sopra oppure chi ha un altro tipo di tappo col quale riesce a infilarlo direttamente qua in questo buco può metterlo direttamente da qua o anche con una siringa finché non fuoriuscirà appunto quando fuoriuscirà da qua abbiamo smesso il nostro lavoro lo facciamo da qua sopra come potete notare l'olio sta iniziando fuoriuscire da qua quindi aspettiamo che smette di fuoriuscire e poi riavvitiamo il tutto adesso che l'olio ha smesso di fuoriuscire riavvitiamo il tutto e dopodiché riaccendiamo la moto per 2-3 minuti giusto per scaldarla così successivamente andremo a ricontrollare il livello dell'olio perché questa cosa? perché l'olio quando è caldo tende a diminuire tende a diffondersi in tutta la moto per bene e quindi l'ideale sarebbe ricontrollarlo dopo aver appunto acceso la moto per qualche minuto e il gioco è fatto spero che il video vi sia tornato utile o che vi sia piaciuto voi invece su quale moto dovete fare questo lavoro? in ogni caso andate a mettere un bel mi piace al video e condividetelo con i vostri amici ondisti forza ragazzi commentate mi raccomando e fate diventare questa community una bomba perché già lo è e grazie a voi lo sarà ancora di più forza ragazzi con questi piccoli gesti aiutatemi a far crescere questa grandissima e stupenda community e mi raccomando commentate il video con qualsiasi proposta che avete oppure per futuri video perché noi ci vedremo nella prossima settimana con un altro contenuto iscriviti al canale Ciao